Ciao a tutti e ben ritrovati qui sul canale Dama Collezione. Oggi classico appuntamento riepilogativo per mostrare i miei acquisti Blu-ray barra 4K del mese di dicembre 2023. Come al solito sono sempre in ritardo per cui andiamo velocissimi. Partiamo subito da dei prodotti coprisi in offerta su Amazon. Ho un canale Telegram e recentemente ho aperto anche un canale WhatsApp per diffondere le migliori offerte che determinati store di un video propongono ciclicamente. Una delle offerte secondo me bomba che ho proposto nell'ultimo periodo è Scarface 4K, edizione doppio film, double feature, perché oltre al mitico film Scarface di De Palma con Al Pacino troviamo anche il classico originale Scarface degli anni 30, del 32 mi sembra, diretto da Howard Hawks. Ovviamente è una sorta di remake quello di Le Palma, ma in realtà prende una strada completamente diversa. Il vecchio film Scarface l'ho sfregiato, è un classico del genere gangster movie, lo vidi tanti anni fa alla Cineteca di Bologna, non lo rivedo da tantissimo tempo e sono contento di aver preso questa Gold Edition. Questa qui l'ho pagata appena 9€, questa Marai con due film. È tanta roba secondo me. Il film Scarface l'avevo già in collezione da diverso tempo, ma mi mancava l'altro film. Quindi per me per 9€ è una bomba ragazzi. Quindi ragazzi vi invito se non vi siete ancora iscritti ai miei canali a farlo, perché pubblico ciclicamente delle offerte molto interessanti. L'edizione semplice, niente di particolare dal punto di vista collezionistico, classica Marai, semplice, plasticosa, con all'interno i due dischi. Il disco 4K Ultra HD di Scarface di De Palma e il disco Blu-ray con Scarface del 32 di Howard Hawks. Ma anche il Blu-ray di Scarface di De Palma. L'unica pecca che gli posso trovare. I dischi sono sempre quelli. Non c'è nulla di nuovo. Il film del 32 viene proposto in versione rimasterizzata e restaurata. In alta definizione da master proveniente da 35 mm. Da una pellicola di 35 mm include sia la versione originale che le versioni alternative da prendere assolutamente. Poi sempre su Amazon ho preso questo prodotto import proveniente dall'Inghilterra. L'ho preso tramite Amazon in Italia e secondo me anche questo è stato un vero e proprio colpaccio perché l'edizione italiana, la Marai italiana, di questo cult immenso di Barry Sonnenfeld, che è la famiglia Adians, ve lo spoilerò subito, è un cult unico che va aggiunto per forza in una propria videoteca personale, in una propria collezione a un video. Secondo me siete cresciuti negli anni 90 i due capitoli dalla famiglia Adams di Barry Sonnenfeld con Christopher Lloyd, Angelica Houston, Christina Ricci e tanti altri. Fanno aggiunti questi due capitoli, sono davvero dei must-scene per coloro che sono cresciuti negli anni 90 e negli anni 2000. Film bellissimi, mi mancava il primo. Ho un video in collezione, l'edizione italiana come ho detto prima è esauritissima per cui mi sono messo a studiare e a cercare le edizioni estere che potessero avere audio italiano. L'unica che ho trovato è l'edizione inglese, anche in Inghilterra il titolo è fuori catalogo, però su Amazon sono riuscito a trovare delle copie disponibili, ovviamente copie usate, però l'ho pagata appena 10 euro questa Marai con il titolo originale e c'è audio italiano, quindi 10 euro ragazzi è nulla. E anche questa cosa qui l'ho segnalata sul mio gruppo Telegram, sul mio gruppo ho un video, perché ogni tanto oltre a pubblicare ovviamente le offerte, i preordini e così via, propongo anche delle edizioni import che hanno all'interno audio italiano e che magari alcune non sono mai state edite sul suolo italiano. Quindi mi raccomando buttateci un occhio perché pubblico cose a mio avviso molto interessanti, e anche io come potete vedere usufruisco anche di offerte che propongo, non è che le propongo e basta solo per affiliazione o per altro. Comunque anche questa è un'edizione molto semplice a Namarai, niente di particolare, a disco semplice, Blu-ray, film memorabile, tanta roba. È uscito anche in 4K in America, ma non ha audio italiano e mai credo uscirà in 4K questo titolo, quindi compratelo, reperitelo in Blu-ray. L'edizione italiana con la copertina italiana costa tipo 40€ e questa per 10€. Non ne va la pena secondo me a volte soffermarsi sulla copertina, i dischi sono sempre quelli ragazzi. Posso capire che magari uno disturbi il titolo con la scritta in tedesco, lì lo capisco ma in questo caso il titolo originale è in inglese, quindi ci può stare a mio avviso. E l'italiano qui proposto è in italiano 2.0 stereo di TSHD. Non ci sono contenuti speciali però, occhio, l'unica pecca è questa, che c'è solamente il trailer cinematografico originale, niente extra, ma anche l'edizione italiana Namarai non ha extra, perché il disco è lo stesso. Quindi, come ho detto, se si può risparmiare, perché no? E questi due titoli li ho presi scontatissimi su Amazon. Adesso passiamo invece ai pezzi da 90. Iniziamo subito da un altro grande classicone, che ho già sgusciato, già aperto, che me lo sono rivisto recentemente, perché non lo vedevo da tempo in memore. È un film di Howard Hawks, uno dei suoi più belli, viene definito il suo capolavoro, secondo me non lo è, ma è uno dei suoi più belli, che è Rio Bravo, ovvero Un Dollaro d'Onore, un film classico del genere western americano, tanta roba, molto, molto carino, mi avviso, molto bello. A me piace parecchio, l'avevo già in Blu-ray, e quindi appena l'hanno proposto in 4K, in edizione steelbook, edizione rimasterizzata, restaurata, con una definizione notevole, l'ho presa subito al volo, perché è un filmone, ragazzi, è un gran bel film, io non sono proprio un fan dei western puri all'americana, non mi piacciono tantissimo, preferisco gli spaghetti western, che sono completamente diversi rispetto ai film americani, ma questo qui è un cult assoluto della cinematografia americana, diretto da uno degli autori del cinema classico hollywoodiano, più bravi e apprezzati di sempre, che è Howard Hawks, oltre al fatto che il film è bello, c'è un grande cast, perché c'è John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, il film è, mi avviso, molto, molto valido, e poi la steelbook è bellissima, guardate, che bella, tanta roba a mio avviso, bellissimo artwork, e dentro ci sono due dischi, il disco 4K o 3HD, e il disco Blu-ray, e all'interno troviamo la protagonista femminile, Angie Dickinson, bellissima la steelbook, è film super classico, se vi piacciono i film western, questo film non può mancare nella vostra collezione, perché è davvero uno dei film western più celebri di sempre, è uno dei più belli, la qualità video è ottima ragazzi, si vede letteralmente molto molto bene, un balzo notevole rispetto al Blu-ray, ve lo consiglio anche dal punto di vista tecnico, della qualità, una risa superiore, il 4K, ci sono anche diversi contenuti speciali, molto interessanti, c'è un commento audio di John Carpenter, e Richard Schreichel, e poi ci sono sul Blu-ray altre feature, che penso che siano già state proposte anche tempo fa, nell'edizione solista, nell'edizione precedente Blu-ray, non penso ci sia nulla di nuovo, in questa edizione qui in steelbook, a parte appunto il disco 4K, e il packaging in steelbook metallico, è una bella edizione, un'edizione penso definitiva su questo film, Rio Bravo, Poi arriviamo al film Campione di incassi, il film che probabilmente sbancherà gli Oscar 2024, ovvero Openheimer di Christopher Nolan, mi è piaciuto tantissimo, l'ho apprezzato notevolmente, sono andato addirittura in IMAX a godermelo il film, cosa che io faccio raramente, perché il cinema IMAX più vicino a me è a tipo 70 km, andava visto in 70 mm con i controcavoli, quindi da buon fan del film, ho preso tutte e due le steelbook, quindi variante 1 e variante 2, entrambe sono molto belle, io scarterò questa qua, perché è quella che mi piace di più, questa la terrò sigillata per collezionismo, perché ho praticamente tutte le steelbook di Christopher Nolan, dei film di Christopher Nolan, quindi ci tenevo ad averle entrambe, però mi rivedrò il film, aprendo, scartando questa bellissima steel, con questo stupendo artwork. Il film secondo me ragazzi non ha bisogno di presentazioni, è una sorta di biopica tipico sul padre della bomba atomica, ovvero Openheimer, e praticamente il film ruota tutto attorno a una sorta di battaglia legale, battaglia discriminatoria, che è stata mossa nei suoi confronti negli anni 60-70. Film molto bello, dura tantissimo, ma scorre via che è una bellezza, mi è piaciuto molto visionario, atipico, un po' paraculetto, perché sotto certi aspetti sovverte le aspettative dello spettatore, perché carica molto alcune scene, che poi in realtà pensi, ah chissà cosa sarà successo, e poi te le sgonfio un attimino, quindi da questo punto di vista è stato bravo a sovvertire le aspettative, perché una delle scene emblematiche iniziali, senza fare grossi spoiler, è quella di Einstein, e poi comunque film memorabile, bello, vincerà parecchi Oscar, e a mio avviso tutti meritati, perché è un gran bel film. La Steelbook ha la scritta Openheimer scavata, The Bossed, e l'artwork qua della scopi della bomba atomica, tanta roba, stupendo, chapeau, fantastico. All'interno troviamo ben tre dischi, il disco 4K Ultra HD, il disco Blu-ray con il film, e il disco Blu-ray con i contenuti speciali, anche perché all'interno ci sono parecchi extra, tanti tanti contenuti speciali, non male come cosa. A mio avviso, se il film dovesse vincere numerosi Oscar, cosa abbastanza plausibile, almeno 4-5 premi se li porterà a casa a mani basse, non escludo che venga riproposta anche un'edizione Blu-ray, un'edizione da collezione un po' più ricca dal punto di vista del packaging, non mi meraviglierei se, dopo la vittoria degli Oscar, venga pubblicata anche un'edizione da collezione un po' diversa. Cosa aggiungere su questo film qui? Tanta roba, compratelo, guardatelo. Non è per tutti perché dura parecchio, però a mio avviso è un film che scorre via, liscio come l'olio. Poi, dal film Campione in Cassi del 2023, che sbancherà gli Oscar nel 2024, facciamo un balzo nel passato e vi mostro l'edizione Amarai 4K Ultra HD del film Titanic di James Cameron, un altro grandissimo film, superbo film da avere a tutti i costi, in una propria collezione, un video, che dire ragazzi, questo è un classicone, uno dei film più belli di sempre, a me personalmente piace parecchio, e che dire di questo film, è davvero un classicone, a mio avviso è stato l'ultimo colossal della storia del cinema, poi dopo ci sono stati tutti i blockbuster, ma questo qui è l'ultimo colossal vecchio a scuola realizzato, film memorabile con DiCaprio, Cattie Winslet, cosa dire di più su questo film memorabile? Va visto, grazie Eagle per aver distribuito il film, perché è tanta roba, dal punto di vista collezionistico, non è nulla di che, perché si tratta di un Amarai con la slipcover, quindi non c'è né steelbook, né edizione della collezione, in America è uscita una bellissima collector's edition, molto ricca, che avrei aggiunto volentieri alla mia collezione un video, ma accontentiamoci così, accontentiamoci dalla Marai, l'importante è che i titoli escano anche qua da noi in Italia, poi per il resto si fa quel che si può. L'edizione è composta da tre dischi, il disco 4K Ultra HD, il disco Blu-ray, e il disco Blu-ray con i contenuti speciali, ci sono oltre 15 ore di contenuti extra, che sono praticamente gli stessi editi precedentemente, da questo punto di vista mi sembra che non ci sia nulla di nuovo, anche se qui viene riportato un nuovo documentario Titanic, storia dal cuore, che francamente non so dirvi se è nuovo o meno, comunque ci sono tantissimi contenuti extra, e il film, come vi ho detto, ve lo sto dicendo tipo 20 volte, ve l'ho ripetuto 20 volte in questi 5 minuti, e va visto, va aggiunto, non ha bisogno di presentazione, è un filmone Titanic di James Cameron, cinema allo stato puro, grandissimo film, io sono felice di aggiungerlo, non me lo rivedrò più che volentieri, perché è uno di quei film che rivedo ciclicamente, almeno una volta all'anno, è stupendo, poi ho fatto un recupero, perché questo qui non è un film uscito a dicembre 2023, ma è uscito credo ottobre, novembre, avevo il Blu-ray, la Marai Blu-ray, l'ho rivenduta, e mi sono comprato questa edizione Steelbook Blu-ray, il 20esimo anniversario di questo bellissimo film di Richard Linklater, con Jake Black, ovvero, Jake Black, School of Rock, film divertentissimo, una commedia, davvero divertentissima, in cui, un musicista appassionato di rock, ti mette a insegnare a dei ragazzini, però ovviamente, anziché insegnare italiano, insomma, le materie giuste, insegna rock, e quindi forma una band, con dei ragazzini, film anche questo, che non ha bisogno di presentazione, perché è davvero un cult, a mio avviso, stupendo, davvero, guardatelo, se siete appassionati di musica, di rock, vi piacciono le commedie brillanti, ben scritte, particolari, divertenti, che possono piacere a grandi e piccini, questo film va al caso vostro, molto molto bello, super divertente, con un Jake Black, in forma smagliante, e la Steelbook, poi, è tanta roba, dal punto di vista, dei contenuti, della qualità, non c'è nulla di nuovo, perché il disco all'interno, è lo stesso di quello che avevo precedentemente, è lo stesso di quello che, si può trovare in Amarai, ciò che cambia qui, è il packaging, non ci sono contenuti nuovi, pur essendo un'edizione ventesimo anniversario, e non viene proposto in 4K oltre HD, non credo che esista il master in 4K, quindi viene riproposto in formato Blu-ray, ma guardate che bella la Steelbook, stupenda, e il film vi permette di avere una sorta di compendio, sulla storia della musica rock, perché, il nostro, musicista, barra supplente, è un grande appassionato di musica rock, insegna ai ragazzini, la storia del rock, oltre appunto a formare una band con loro, davvero divertentissimo film, molto molto bello, anche questo si rivede sempre, più che volentieri, è un film che in famiglia, non dovrebbe mai mancare, secondo me, e questo è School of Rock, poi ho preso la Steelbook del quinto Indiana Jones, ovvero Indiana Jones è il quadrante del destino, quinto film della serie di Indiana Jones con Harrison Ford, che è praticamente l'ultimo, perché Harrison Ford è talmente vecchio, che non ne farà altri, il film, inizialmente non volevo comprare un video, perché lo vidi al cinema, mi è piaciuto, molto più bello del quarto film, ma non mi ha entusiasmato più di tanto, quindi l'ho preso prevalentemente per collezionismo, di principio il film non è che mi abbia fatto sobbalzare, carino, ma niente di più, non so se lo rivedrei così tante volte, come ho rivisto i primi tre film, soprattutto il primo e il terzo, è bello, ma è troppo vecchio lui, l'hanno fatto troppo tardi questo film, hanno aspettato troppi anni, non è più credibile lui, e poi anche la ragazza così tirata fuori all'ultimo momento, mi è sembrato un po' troppo sbilanciato, un po' troppo così, già anche il quarto che introduceva il figlio e tutto, era già un po' così, ma quello aveva il super, perché in questo caso mi è sembrato giusto una mossa per affiancare qualcuno a Harrison Ford, perché ovviamente è vecchio, e anziché proporre il figlio o un altro attore maschio, hanno messo una donna, che poi lei è bravissima, bellissima, molto valida, ha una grande interpretazione, però il film, le giustificazioni che il film adotta, a me personalmente non mi hanno fatto impazzire, comunque il film si prende prevalentemente, perché uno è affezionato al personaggio, e a tutta la serie in un video, quindi purtroppo andava preso, anche se vi ripeto, il film carino, ma niente di così eccezionale, steelbook comunque molto bella, molto molto carina, bell'artwork, troviamo tutti gli elementi cult, di indie, e l'edizione è in steelbook 4K, oltre a HD più Blu-ray, molto valido, troviamo Indiana Jones, con la sua figlioccia, interpretata dall'attrice, di Fleabag, che si chiama, che è molto brava, a me piace, ma adesso mi sfugge il nome, Phoebe Waller-Bridge, ed è bravissima lei, l'unica cosa bella, secondo me dal film, è che sono ritornati un po' alle origini, e quindi l'hanno riproposto come villain, i nazisti, per il resto niente di che, questo film sarebbe stato perfetto, con un finale un po' diverso, vent'anni fa, quindici anni fa, ormai è fuori tempo, limite, adesso passiamo a un film d'azione, con Denzel Washington, film che non ho visto al cinema, ho visto, credo solo il primo capitolo, il secondo neanche l'ho visto, ce l'ho in collezione, ma non l'ho visto in, non l'ho visto, ce l'ho entrambi in steelbook, e da completista ed appassionato, e ho preso tutte e due le varianti, che sono uscite, che Sony Columbia ha proposto, sul mercato italiano, aprirò questa qui, che mi sembra quella, un pochino più carina, ma sono entrambe belle, le aprirai tutte e due, ma ne apro solo una, perché alla fine, mi serve solo per vedere il film, film d'azione, che propone Denzel Washington, in questa sorta di vendicatore, film action, film che piacciono molto a mio papà, queste qui, infatti lui lo vuole vedere, a tutti i costi, a me interessa il giusto, vi ripeto, sono fermo al primo capitolo, il secondo ce l'ho, ma non l'ho visto, non me lo ricordo, e la steelbook, guardate che bella, davvero fantastica, l'artwork, mi piace molto, e all'interno troviamo, il disco 4K Ultra HD, e il disco Blu-ray, film che penso, sia stato girato, parzialmente a Roma, perché qui vedo, il Colosseo, quindi, ipotizio, che sia stato, girato, un pochino, anche nella nostra capitale, l'interno del steelbook, è un po' così così, ma, a mio avviso, rimane, un gran bell'artwork, una bellissima illustrazione, una bella grafica, sul film, francamente, non voglio aggiungere nulla, perché non l'ho visto, non sono, proprio un grandissimo, esperto della serie, questo è un terzo capitolo, e non mi ricordo, i precedenti capitoli, il primo mi piace, ma non, più di tanto, nel senso che, non l'ho più rivisto, e non me lo ricordo, quindi, non voglio dirvi, castronerie, in più, infatti qui dietro, negli extra, vedo cartoline, della costiera amalfitana, quindi vi confermo, che alcune parti, sono state girate, anche se solo italiano, quindi, penso a Roma, costiera amalfitana, e questo qui è, Dequalizer 3, con Dez and Washington, adesso arriviamo, all'ultimo titolo, che vi propongo, l'ultimo mio acquisto, del mese di dicembre, 3, e chiudiamo, con uno, dei miei film, preferiti, in assoluto, un film, di George Lucas, è il suo, secondo lungometraggio, American Graffiti, film, molto molto bello, ragazzi, con protagonista, Richard Dreyfus, Ron Howard, e altri, attori, giovanissimi, è un film corale, un pochino triste, come commedia, però è molto bella, brillante, perché ci sono, delle situazioni, nostalgiche, puri anni, anni 60, molto divertente, per cui troviamo i drive-in, i tipici bar, pub americani, ci sono tante, trovate molto interessanti, film davvero, molto carino, che vi invito a vedere, una volta nella vita, se non avete mai visto, e, sono sicuro che vi innamorerete, perché è un grandissimo film, del regista George Lucas, me ne sono innamorato, lo rivedo sempre volentieri, è un gran bel film, ho addirittura anche American Graffiti 2, che penso che sia, poco noto ai più, se l'ho in un video, anche quello mi piace, questi film qua, mi piacciono a me, per chi non lo sapesse, nel cast, c'è un giovanissimo Harrison Ford, alla sua prima, una delle prime, particine, del mitico Harrison Ford, Ford che ovviamente, poi collaborerà con George Lucas, in Star Wars, e otterrà la parte, del mitico Han Solo, ma inizialmente, la prima incursione, del duo George Lucas e Harrison Ford, fu, nel film, American Graffiti, stile molto molto bella, come grafica, tanta roba, American Graffiti, all'interno troviamo poi, questo bellissimo, college, con alcune delle scene, più emblematiche, troviamo, delle scene da ballo, situazioni sentimentali, un po' particolari, il drive-in, insomma, è un film americano, una commedia giovanile, spenserata, ben scritta, ben diretta, per nostalgici, ambientate nei mitici, e favolosi anni 60, gran bel film, pellicola della nuova Hollywood, che ha mostrato, tutto il talento, di George Lucas, questo è THX, film, superbi, e basta ragazzi, questo è l'ultimo titolo, che vi presento qui oggi, ed è l'ultimo titolo, che ho comprato, nel mese di, dicembre 2023, fatemi sapere, nei commenti, cosa ne pensate, dei miei acquisti, se secondo voi, ho fatto bene, ho fatto male a comprarli, e se avete comprato, anche voi, qualcuno dei titoli, che vi ho proposto qui oggi, io come sempre, vi ringrazio, per avermi seguito, fino alla fine, e vi do appuntamento, tra qualche giorno, con un nuovissimo, eccitante video, a presto,